Incredibilmente, sono sopravvissuto a Lucca Comics. Non l'avrei mai detto, soprattutto sabato, quando mi sono ritrovato in mezzo a quella bolgia mefistofelica che era Lucca Comics, circondato da 150.000 persone che ottenebravano la mia vista, la mia mente, e privavano di ossigeno il mio povero corpicino, mi sono ritrovato a fare una promessa al Signore Dio Innipotente, dicendo che se fossi sopravvissuto, avrei portato un maggior numero di contenuti su questa piattaforma, e sarei stato un po' più costante. Quindi, di solito, non è una promessa che faccio a voi, ma è una promessa che faccio a Dio, ovviamente, quindi cerchiamo di mantenerla. E cominciamo con dei piccoli passi, quindi cominciamo con una breve recensione, una breve analisi di un fumetto che ho comprato proprio in occasione di Lucca Comics, presso lo stand di Astromica. Si tratta di J&A, un fumetto di Giancarlo Marzano e Roberta Colasanti, e in realtà ad Astromica ho comprato anche Vita Nova, perché sapete la mia ossessione nei confronti di Dante, ma di questo parleremo in futuro quando l'avrò letto. Ma, J&A, l'ho già letto. L'utilizzo delle virgolette è obbligatorio, perché si tratta di un albo muto, ovvero di un fumetto che non ha parole all'interno, non ha balloon, non ha dialoghi, e le uniche parole che appaiono non sono quelle che vengono utilizzate nella forma di onomatopee. Diciamo che il termine migliore sarebbe dire lo sfogliato, anche se si tratta comunque di una lettura. La sceneggiatura è comunque ovviamente presente per scandire la storia, e il tutto permette di godere maggiormente dei disegni tratti in uno stile che ricorda un po' l'acquerello, quindi uno stile non precisissimo, ma molto molto ispirato, molto piacevole da vedere. Se Vita Nova l'ho comprato perché c'è la mia ossessione perdante che mi spinge a farlo, J&A l'ho comprato perché onestamente ha risuonato nel mio cuore. Si tratta della storia di un boscaiolo rosso che si ritrova coinvolto nella sua vita dalla compagnia di una gattina che appare nel suo porticato un giorno come gli altri. Uomo grosso e barbuto, con la barba rossa, e che vive con una gattina, non ho potuto far a meno di proiettare la mia esistenza all'interno di questo fumetto, e per questo l'ho comprato immediatamente. Quindi, J&A, il sottotitolo è una storia semplice, è effettivamente una storia semplice. La storia quindi riguarda la vita quotidiana di questo boscaiolo, che si ritrova ad adottare questa gattina che è a pare presso casa sua un giorno, fino a che ovviamente, come è lecito aspettarsi da una storia di questo tipo, arriva il momento di rottura, arriva il momento in cui i due vengono separati, e quello che succede dopo lo vedremo a breve, nella zona spoiler, ok? Ma prima voglio semplicemente dire che si tratta di una bella storia che potete leggere nel giro di dieci minuti al massimo, magari un pochino di più se vi concentrate sui disegni ed apprezzare lo studio che è stato fatto da parte della disegnatrice per quanto riguarda il gatto. Il gatto è effettivamente un gatto, nel senso che le pose che attua, il modo in cui manifesta, rabbia, affetto, paura, è esattamente quello che ti aspetteresti da un gatto. E per questo motivo il personaggio della gattina diventa immediatamente vivo, riesce a coinvolgere maggiormente il lettore. Per quanto riguarda la storia, perché voglio approfondirla? Di solito sapete che cerco di essere privo di spoiler nelle mie analisi, ma ci sono un paio di punti che secondo me meritano un'analisi in termini di debolezze di storia che ovviamente sono il mio tentativo di cercare il pelo nell'uovo perché sono fatto in questo modo. La storia comunque funziona, ti tiene avvinto dall'inizio alla fine ed è una bella storia, è un bel viaggio. Devo dire che sono stato anche piacevolmente colpito da alcuni esperienti narrativi e qui si comincia a entrare nella zona dello spoiler, ovvero il punto di rottura parlando di una baita in mezzo a un bosco e una gattina che appare dal nulla mi aspettavo che fosse prevedibile nella sparizione della gattina stessa così come la parza sarebbe scomparsa e poi ci sarebbe stata l'attesa da parte del boscaiolo magari la ricerca e poi il ritrovamento e l'unione di nuovo dei due personaggi. Questo non è quello che accade all'interno di JNA. A sparire è il boscaiolo a seguito di un evento imprevisto che è veramente un bel colpo di scena per il lettore e l'attesa è quella della gattina, il viaggio è quello della gattina e quindi poi la riscoperta è quella della gattina. Dove trovo i punti debole io in questa storia qui? Il primo punto debole che vado a individuare è quello rappresentato dallo sceriffo. Lo sceriffo, donna, quindi non so se si chiama la sceriffa ma d'altro in questo periodo storico è tutto molto fumoso, va alla casa del protagonista per trovare la gattina che però scappa dal tentativo di cattura della sceriffa e si ritrova a vagare nel bosco. Questo viaggio all'interno del bosco tra l'altro per me è probabilmente il momento più bello all'interno dell'intero albo, ci sono delle tavole molto molto carine in cui il gatto si abbevera al fiume e dà modo di interagire e vedere gli altri animali del bosco, però non mi convince la presenza dello sceriffo stesso all'interno della casa perché all'interno della storia, forse per un limite di pagine, forse per semplicità di narrazione, non viene mostrato il motivo per cui lo sceriffo dovrebbe presentarsi alla casa del boscaiolo. Il boscaiolo non è stato vittima di un crimine, non è coinvolto in un'indagine misteriosa che potrebbe spingere un membro delle forze dell'ordine a ricercare degli indizi in casa sua e allo stesso modo non c'è dato di sapere se lo sceriffo effettivamente sapeva della presenza del gatto o meno e fosse andato lì proprio per quello. Mi sarei aspettato che c'è un momento in cui dopo l'avvenimento che causa la separazione tra i due protagonisti c'è una foto di lui e del gatto che vola in giro per l'aria che finisse raccolta dallo sceriffo ma questo non succede, e quindi diciamo che la presenza di questa persona in casa del protagonista è abbastanza ingiustificata. Allo stesso modo il gatto poi si ritrova riportato all'interno di un rifugio in cui viene dato in adozione ma l'adozione non funziona, il gatto è schivo forse a causa del trauma forse perché non vuole abbandonare il suo compagno di vita e per questo si ritrova a graffiare coloro che cercano l'adozione nei suoi confronti. A seguito proprio di questo rifiuto del gatto di essere adottato il gatto viene portato all'interno di un ospedale per essere coinvolto nella pet therapy per gli anziani, gli animali che vengono utilizzati per fare compagnia, per aiutare nel percorso di guarigione o semplicemente di vecchiaia di alcuni pazienti. Ecco, questo mi sembra un pochino forzato nel senso che un gatto che esprime ostilità nei confronti delle persone arriva a graffiarle e quindi non può essere adottato per questo motivo difficilmente può essere coinvolto in un progetto di pet therapy. Mi sarei più aspettato che essendo già un gatto adulto per questo motivo non trovasse adozione come spesso accade ad altronde all'interno di rifugi, di canini, di luoghi del genere perché le persone, con i bambini in particolare, vanno a cercare i cuccioli per poterli crescere e per poter avere un legame diverso. Quindi è un pochino forzata in particolare il fatto che venga portato all'ospedale dove si trova ovviamente l'altro protagonista che sarà il motivo di ricongiunzione dei due è una coincidenza che personalmente non avrei adoperato in tal modo nel senso che un po' invalida il viaggio del gatto non ritrova il suo compagno grazie alle sue forze grazie alle sue scelte le sue azioni ma è semplicemente una vittima del fatto che viene portata dove deve arrivare per motivi di storia. Però il mio problema semplicemente è che questi piccoli dettagli potevano benissimo essere corretti magari cambiando una vignetta o aggiungendone una però non so se è per motivi di numerazione delle pagine motivi per di sintesi o altro questo non succede. Ovviamente tutto questo non invalida la storia però come sapete è il mio lavoro rompere gli coglioni e per questo motivo continuo a farlo. In conclusione però ve la consiglio avrei cambiato qualcosina ma nel complesso è veramente una bella storia si fa leggere con gran piacere sono molto felice di questo acquisto qui sia per lo stile di disegno sia per l'affetto l'amore che comunque traspare dalle pagine secondo me è una valida aggiunta alla mia libreria. Fatemi sapere se voi l'avete letto o sfogliato fatemi sapere se avete intenzione di leggerlo e in particolare se volete consigliare altre storie mute o meno. Grazie mille per aver visto questo video un piccolo monto giungendo in fine non lo dico quasi mai però forse è caso che comincia a farlo vi ricordo che ovviamente tutte le forme di interazione in questi video aiutano quindi mi piace commenti condivisioni se lo ripetate giusto non sentitevi forzate a farlo vi ricordo anche che sono attivo su TikTok e sono attivo su Twitch dove faccio live tutte le sere trovate tutti i link in descrizione se volete seguirmi siete ben accetti e seguitemi su Instagram che è l'unico social che effettivamente utilizzo grazie mille per aver seguito questo video buona 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 grazie a tutti